Il potenziamento dell'ospedale di Agropoli resta un tema di grande rilevanza per la comunità locale e per tutta l'area sud della provincia sedernitana e dal secolo della delibera di qualche giorno fa, votata dal Consiglio Comunale, fa capire che questo obiettivo passa anche attraverso l'appoggio di alcuni comuni dell'Unione Pessum Alto Cilento, indicando un approccio collaborativo da parte delle amministrazioni locali. L'Unione dei Comuni, secondo quelli che sono gli intenti della citata delibera, può svolgere un ruolo fondamentale nella difesa e nel potenziamento dei servizi sanitari, ovviamente non per quanto riguarda gli aspetti puramente decisionali, che non le appartengono essendo propri di ASL e Regione, ma nel rendere la battaglia un po' più corposa dal punto di vista politico, coinvolgendo le varie amministrazioni nella pianificazione di strategie comuni. Ciò implica una richiesta di maggior stanziamento di fondi, miglioramento delle infrastrutture e rafforzamento del personale medico e paramedico per far sì che ad Agropoli ci sia un ospedale nel pieno delle sue funzioni. Tutti sono stati concordi nella decisione di procedere insieme verso l'obiettivo comune di chiedere una maggiore funzionalità del presidio ospedaliero di Agropoli e adotteranno la medesima deliberazione che, come Consiglio Comunale, votammo lo scorso 21 ottobre. Vi da chiedere a Regione ASL di attivare i servizi stabiliti dal Decreto Ministeriale 70 2015 in quanto presidio posto in zona disagiata, ha fatto sapere il Sindaco di Agropoli Roberto Nutali Passi. Altri sindaci mi hanno anticipato che franno lo stesso e li ringrazio, così come ho apprezzato molto la presa di posizione del Parco del Cilento Valodidiano Alburni, il cui Consiglio Direttivo ha deliberato all'unanimità in tal senso, evidenzia il primo cittadino. È una battaglia comune per un obiettivo importante e ci impegneremo al massimo per ottenerlo. Come infatti chiarito il primo cittadino, anche l'ente Parco si è dunque schierato a favore dell'ospedale di Agropoli. Ad oggi il comprensorio agropolese è privo di strutture di primo soccorso, si legge nella delibera dell'ente preseduto da Giuseppe Coccorullo. Divene necessario fornire questo importantissimo servizio. L'area di riferimento è molto ampia e nel periodo estivo il bacino d'utenza cresce esponenzialmente. Ovviamente una battaglia che non può però rimanere circoscritta unicamente alle istituzioni locali. È importante che la comunità resti informata e partecipe in questo processo, così da garantire che le necessità della popolazione vengano ascoltate e considerate in modo adeguato. E soprattutto occorre che partecipi in maniera appassionata, come accadde anche alcuni anni fa. Solo in questo modo si potrà sperare forse in una positiva svolta per l'ospedale di Agropoli.